Le tre rassegne che vanno in scena qui a Villa Castelnuovo sono Classic Night, note d'incanto ed estate in armonia. Vogliono essere un monumento di grande vitalità artistica, un evento di confronto e di crescita per tutti gli artisti, sia locali che nazionali. Un luogo, questo di Villa Castelnuovo, che vuole proporre alla città di Palermo un suggestivo incontro tra musica e arte. Una manifestazione che vuole dare spazio anche ai nuovi talenti e ai artisti emergenti, senza per questo però tralasciare anche l'elemento importante, quale è quello della professionalità. Il progetto culturale Teatro Carlo Cottone è un frutto dell'attività artistica instancabile del tenore Fabrizio Corona, coadiubato da un eccellente staff di produzione, che insieme al suo direttore Carlo Alberto Sausa, sera dopo sera approfondano dedizione e competenza nell'attività, con lo scopo principe di donare a tutti voi quelle emozioni che solo l'arte sa regalare. Quindi va a loro il nostro più grande applauso, affinché tutto questo appunto possa verificarsi ogni sera.